Puoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparente. Ciao ragazzi, vi propongo questo bel camioncino da muratore, renomi Dliner S135, con una bella gruetta, una Bonfiglioli 2300, due stili più uno. Camioncino da muratore, con pochi chilometri, unico proprietario, 171.000 chilometri, perfetto di meccanica, sano di cabina, queste sono le caratteristiche della gru, trovate la foto nella descrizione. Il camioncino dira molto bene, lo sentite? Queste sono le condizioni del telaio. Abbiamo un ribaltabile Deila, molto robusto, come vedete qua, è molto sano. Trilaterale, ottime condizioni, il camion è balestrato dietro, anche davanti, condizioni dei pneumatici ottimali, come vedete qua. Le gomme che monta sono queste, 205 barra 75 R17.5, vedete che non fuma. Guardiamo un po' il cassone, molto bello ancora, questa è la gomma di scorta. Bel cassone, belle le sfonde, ecco qua il telaio. Il motore è un quattro cilindri turbo, molto buono. Questo è l'altro lato, ho tre posti a sedere, 135 cavalli. Ottime condizioni generali. Se siete interessati, contattateci, che il camion ne dà disponibile presso la nostra sede per visione e prova. Eccolo qua, vedete le foto, vedete che presenta molto bene. Ciao, ci sentiamo. Puoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparenti.